Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Diego Betti e oggi siamo a Gubbio, a Londra più o meno. Vedete? Bello. Ma non per vedere il panorama, ma per vedere la ruota panoramica. Scusate. Ecco qui, la ruota panoramica. Ok, adesso ci saliremo per fare un bel viaggetto. Diego. Eh? Dai. Saluta, Tony. Mi sa come ti dico io? Saluta, mamma. Ciao. Guarda, sì, ce l'ho, prendi. Allora, andiamo, eh. Facci una vita, vedo, dai. Vai, Diego. Aspetta. Vai, 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 vai. Aspetta che avevo da più dentro. Ok. Ok. Eh? Non va bene, aspetta. No. Dobbiamo scendere. No, Tony, non quella. Non quella. Vale. Aspetta, se gira... Eh, Tony, non è al volo anche te. Tanto guardiamo... E le porte si chiudono per noi. Vai. Addio, mondo. Andiamo nello spazio. Allora, dalla Francia. Yeee. Guardate tutti gli ingranaggi. Oh, 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 oh. E' il motore che si vibra, eh. Ha scendito l'olio. Non è vero. Guardate qua che panorama. Bello, bello. Si vede tutto il monte. Da sopra la croce. Bello. Fa venire un po' di vertigini. Bello. Un po' tante vertigini. oh Antonio adesso scende come sei piccola Dani siediti il campanile me è seduto Diego me è seduto c'è Maldini è qui ostia ragazzi ostia or casa la puttanasza Tani vai stiamo scendendo a Basti per la tua incolumità basta ad alzati oh cacchio un pochino la mente però di paura e c'è un pochino di fifa oh precipitiamo precipitiamo chiesetta di San Francesco bellissimo ci abbassiamo Tony quanti giri facciamo noi? uno basta solo uno? penso è un giro? è un giro? no quattro com'è? quattro giri ok quattro giri verso l'infinito e oltre vero Tony? vero Tony alà dal Portugalo bello me la fa un po' le manutenzioni quando arriveremo in cima vi farò vedere il segreto il segreto che tutti bramano cosa c'è? sotto la statua lo scopreremo adesso siamo nel secondo siamo nel secondo punto più alto di tutta Gubbio vero Tony? adesso secondo i miei calcoli si dovrebbe bloccare la ruota no? non si può non si vuole bloccare adesso è pisciata ma vuole pisciata da qualsiasi non vuole pisciare oh e si scende metto un attimo in stop il video dopo aver fatto lo stesso giro altre quattro volte adesso scendiamo bello a tutti ragazzi lasciatemi like e tanti commenti ciao